È un appuntamento importante, quello odierno. Oggi, sabato 27 gennaio 2024. Circa 7.000 uomini si trovavano ancora detenuti nei campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau alla mattina del 27 gennaio 1945. Ad Auschwitz, a trovare la morte, furono oltre un milione di deportati. Il numero degli ebrei sterminati, secondo le stime più attendibili, ammonta a 6 milioni. E proprio oggi, 27 gennaio, celebriamo il giorno della memoria che cade appunto ogni 27 gennaio su scala mondiale perché in quella data del 1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo più atrocemente famoso. E noi lo facciamo in un modo del tutto particolare perché desideriamo riproporvi, amici ascoltatori, una trasmissione che andò in onda nel 1998. Ci racconta, o meglio, ci presenta un libro, Auschwitz e di tutti, prima edizione della casa editrice Lint appunto nel 1998. Lo scrisse Marta Ascoli, nata a Trieste, il 9 novembre del 1926 è deceduta sempre nel capoluogo regionale il 23 marzo del 2014 e proprio in occasione del giorno della memoria desideriamo offrirvi questo che è ormai diventato un documento molto, ma molto importante. Ascoltiamo. Scrivere e descrivere Appunti di letteratura, scienze e storie A cura di Lilla Cepac ed Eurometelli Con i contributi di Daniela Gross, Fabio Pagan, Roberto Spazzali, Pietro Spirito Certamente avrete già notato un libricino grigio e nero attraversato da un doppio filo spinato Si intitola Auschwitz e di tutti e ci viene proposto dalla Lint E' la testimonianza di una donna triestina, Marta Ascoli che a 17 anni venne deportata nell'inferno più infernale di tutti quello che non prevedeva alcun ritorno Auschwitz-Birkenau Lì si consumò la cosiddetta soluzione finale il genocidio di molti milioni di ebrei Marta Ascoli riuscì a sopravvivere perché l'organizzazione infernale del lager prevedeva la schiavitù temporanea dei più giovani e forti destinati ai lavori forzati in condizioni disumane Quando gli schiavi non erano più in grado di lavorare venivano sterminati anch'essi nel camera gas e i loro corpi venivano distrutti nel fuoco dei forni crematori perché non restasse traccia di questo abominio Marta Ascoli ha aspettato più di mezzo secolo per scrivere questo racconto perché scrivere significava anche rivivere scene atroci, umilianti subite quando era ancora una ragazzina Alla fine si è decisa soprattutto perché sta aumentando il numero di coloro che non credono agli orrori dei lager ma anche a mezzo secolo di distanza non ce l'ha fatta o forse non ha voluto rivivere nei dettagli gli orrori quotidiani della sua non vita Molti fatti sono stati deliberatamente omessi, scrive, per non rendere opprimenti la lettura e così ne è venuto fuori un libricino scarno, sottile e sottile in cui si narra solo l'essenziale La non vita di Marta sta quindi anche nelle righe bianche che staccano le singole scene e grondano incubi tacciuti per pudore e per pietà nei confronti di se stesse o forse ha tagliato le scene più crude perché gli increduli avrebbero detto subito impossibile, pare un film dell'orrore Di fatti, quando le ho fatto vedere i frammenti che intendevo leggere questa incredibile signora Ascoli ha detto beh, ma così c'è solo il museo degli orrori perché invece non legge la scena in cui vedo i colori del cielo o quella in cui sogno il calore della famiglia Sì, in effetti ci sono tre righe e mezza in cui racconta che due volte, due sole volte in quel lungo anno è riuscito a sognare le persone care per poi risvegliarsi angosciata nell'orrore del lagre proprio come la rosaura del calderon quello della vita e il suegno e poi in altre pochissime righe dice che un giorno molto freddo alzando gli occhi dal fango che le rivava alle caviglie riuscì persino a vedere i colori dell'alba il rosso, l'azzurro, il rosa e anche questo accadde una sola volta in un anno intero ma perché Marta Ascoli ci tiene tanto questi due frammentini? chissà, forse vuol dirci che non è vero che nel lagre ogni traccia di umanità scompare che nel lagre il ricordo più straziante è proprio quello della propria umanità calpestata giorno dopo giorno dagli aguzzini un'umanità che può sopravvivere per l'appunto soltanto nel ricordo ma il fatto è che questo ricordo e con esso la propria umanità sopravvive, sopravvive persino alla fame, alla sete, alle percosse continue il che significa che mentre chini la testa e obbedisci perché altro non puoi fare guardi, vedi e quindi giudichi o se vogliamo ricordi, vuoi, devi ricordare ecco dunque come inizia il ricordo di Marta che si intitola Auschwitz e di tutti Trieste, marzo 1944 un giorno di scuola come un altro frequentavo l'ultimo anno delle magistrali la mia classe, la terza C superiore era alquanto diligente in due o tre studentesse ci contendevamo i migliori voti avevo 17 anni e il mio era un mondo pieno di sogni e di aspettative era un'età in cui ci si nutriva di illusioni e tutto ci accontentava e ci faceva sorridere il primo ricordo di Marta è che non era neanche ebrea ma subito dopo aggiunge che dopo quanto ha subito perché considerata ebrea pur seguendo le orme di suo padre che era un libero pensatore si è sentita assai più vicina all'ebraismo allora signora Ascoli chi erano i suoi genitori? mia madre era cattolica mio padre ebreo e mia madre aveva chiesto anche il permesso per sposarsi in chiesa perché era abbastanza religiosa noi noi tre figli siamo stati educati alla religione cattolica perché mia madre era abbastanza religiosa mio padre si interessava di un'infinità di cose infatti noi già da piccoli non avevamo grandi possibilità ma mio padre comperava di tutto magari di seconda mano libri dischi ne avevamo fonografi macchine fotografiche di ogni genere magari di seconda mano perché mio padre era mio padre tra l'altro era anche un uomo che era portato per la musica da piccolo aveva suonato il violino e poi aveva così un certo una facilità per la musica in quanto che suonava la fisarmonica o il piano tutto così a memoria e aveva fatto le scuole in Austria tra parentesi e anche aveva fatto il militare in Austria era stato in moltissime città perché lui nel 1890 era nato cittadino austriaco quindi non ha valso neanche questo lui ha fatto anche la guerra per l'Austria e che mestiere faceva? dunque mio padre in un primo tempo siccome sapeva diverse lingue sapeva il tedesco il serbo croato lo sloveno era portato per le lingue aveva fatto gli studi anche fuori all'estero era stato impiegato alla banca commerciale italiana se non che siccome era una persona ecletica e desiderosa di spostarsi non amava le banca ha lasciato il lavoro per mettersi in proprio e all'occasione ricordo che mia madre era piuttosto arrabbiata perché aveva venduto una casa per comprare una macchina con il quale si era messo in commercio cominciando da niente in oggetti di cancelleria carta da lettera matite, colori tutto quello che riguarda la cancelleria e quindi viaggiava io avevo conosciuto in questo modo specialmente durante l'estate quando mio padre qualche volta mi portava con lui per uno, due, tre giorni e molta gente dell'Istria e anche devo dire slovena dove eravamo trattati molto bene io ho dei bei ricordi di quando ero piccola con lui qua la vediamo alla fine del libro in una fotografia le trecce molto lunghe in bicicletta su un ponte credo in Friuli di Sequals il ponte di Sequals faceva delle gite in bicicletta senta signora ma lei a un certo punto scrive era un anno di guerra ma non ne risentivamo molto ma voglio dire non avevate paura c'erano state le leggi razziste no perché il mio caso non poteva essere contemplato neppure dalle leggi di Norimberga le quali erano in vigore ed erano le più severe in quanto che le leggi di Norimberga non potevano toccare gli ebrei che avessero tre nonni ariani ed io ne avevo tre quindi già a scuola non ero stata allontanata dalle scuole io non avevo nessun problema in quanto che anche mio padre era a parte che era poi un libro pensatore ma insomma era ma suo padre vabbè magari non so non frequentava il tempio eccetera ma suo padre era ebreo non aveva paura sì e mio padre qualche volta andava anche via ma era talmente attaccato alla famiglia e siccome era fiducioso e buono non avevamo avuto nessun sentore di quello che veniva fatto il primo gruppo di persone che è stato portato via nel marzo un po' pochi giorni prima di noi è stato il gruppo della casa Gentilomo tutto di ebrei ma anche quello di sera in segreto vecchio e noi due giorni dopo non si sapeva niente poi io avendo frequentato regolarmente la scuola mentre con le leggi razziali si era subito allontanate non temevo niente allora vediamo cosa le succede un giorno siamo sempre nel marzo del 44 arrivano in casa sua le SS dove siamo? in Chirione di Trieste via Colonia subito due case più in sud dove c'era l'asilo Gentilomo proprio dove venivano ricoverati ebrei ammalati e vecchi e ce ne erano moltissimi infatti c'è una stele che ricorda tutti i loro nomi e sono stati deportati non è tornato nessuno allora arrivano le SS in casa sua i suoi fratelli non ci sono c'è all'inizio lei e sua madre che non è assolutamente ebrea in nessun modo poi arriva anche suo padre sì mio padre è arrivato dopo nel senso che noi ci hanno intimato subito di venire con loro per informazioni e quando siamo usciti hanno chiuso la porta e si sono messi le chiavi in tasca infatti poi hanno depredato tutto parlo soprattutto quello che c'era di valore nel scendere le scale abbiamo incontrato mio padre il quale frequentava all'epoca siccome ero un giocatore di scacchi frequentava questi caffè allora c'era la Polare il caffè Milano e lo hanno subito affermato lui ci ha visto hanno chiesto i documenti e hanno intimato anche lui di seguirli insomma vi portano alla risiera di San Sabba lei dice che non sapeva niente della risiera di San Sabba no 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 io nessuno sapeva nessuno e come arriva lì ricordiamo che ha 17 anni e questa ragazza con le trecce cosa vede ah io non ho visto niente perché siamo arrivati di sera logico loro facevano tutto di sera tardi era già buio e siamo entrati ci hanno fatto camminare attraverso il piazzale scortati ovviamente abbiamo passato una specie di volta e ci hanno subito divisi io e mia madre siamo andati mi sembra il terzo piano e mio padre al secondo potrebbe essere viceversa non potrei giurare ma nessuna importanza uno al terzo uno al secondo io credevamo al terzo noi tutte donne e gli uomini al secondo piano e lì c'erano delle brandine buttate per terra un mucchio di gente che parlottava eccetera ed erano persone maggioranza ebree ma c'era anche qualche slovena però la maggior parte dei sloveni qualche istriano sono arrivati non ricordo dopo quanti giorni con un grosso trasporto e provenivano tutti dal campo di concentramento di arbe oggi rab campo che all'epoca era allestito dai fascisti quando dopo l'8 settembre il campo è stato preso dai tedeschi come la città di Trieste che è diventata litorale adriatico i tedeschi hanno fatto quello che facevano in Germania si ritenevano padroni assoluti e tutta questa gente è stata mandata in risiera per essere poi portata ad Auschwitz quanto tempo è stata nella risiera di San Sab ma io non ricordo esattamente io credo sia stata un 10-12 giorni 10-12 giorni ma insomma lei non ne sapeva niente aveva 17 anni sta lì dentro cosa pensa? ah niente io ero fiduciosa di uscire ogni giorno aspettavo che che ci interrogassero perché loro hanno detto venite per informazioni viceversa loro non ci hanno mai interrogati niente e sua madre cosa le diceva? e mia madre e mia madre è angosciata quanto mai anche perché a un certo punto abbiamo cominciato a temere visto che arrivavano dentro quando ci davano un miserabile rancio e con invettive e bestemmiavano e proprio con arroganza e poi mangiare quella volta era all'inizio magari non mi risentivo anche se mangiavo poco perché era appena andata ma insomma tutto l'insieme poi ricordo che sentivamo altoparlanti una certa ora l'attrati di cani e probabilmente il momento in cui torturavano i prigionieri o li ammazzavano col colpa alla nuca perché noi non potevamo neanche avvicinarsi alle vetrate che erano tutte abbrunate e guai ma le donne ebree che erano lì cosa dicevano invece? erano rassegnate erano rassegnate cioè? e sapevano di andare incontro a un destino feroce ma lei signora Ascle doveva essere una ragazza molto coraggiosa perché poi in realtà lei riesce a 17 anni sempre a contrattare con una SS italiana per farsi mandare nello stesso vagone di suo padre e anche questa è una cosa un po' terribile perché una ragazza di 17 anni l'unica donna in quel vagone di soli uomini doveva essere stata una cosa prima di entrare io ho parlato quando loro ci hanno portato nei camion e ci hanno portati al silos e noi siamo scesi allora tutti quanti li facevano sia tedeschi ma erano più le SS italiane che ci controllavano anche loro però più di tutto questi nostri italiani e gli uomini entravano tutti in un vagone in più vagoni solo uomini e le donne in un altro al che io in un spunto di 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 non so ho visto un giovane in una divisa grigio verde aveva qualche simbolo delle SS ma era italiano e l'ho scongiurato di farmi andare con mio padre cioè non c'era niente di male perché tanto deportata dovevo essere quindi a posta di andare in uno sono andata in un altro e ho fatto il viaggio con mio padre e vi siete parlati in quel periodo cosa vi siete detti queste sono cose che a un certo punto devono restare proprio tra noi comunque mio padre nel mentre io questo posso dire nel mentre io cercavo di infondere le coraggio gli dicevo vedrai ci prenderanno in un campo di lavoro eccetera mio padre era sconsolato non aveva nessuna speranza perché lui aveva già avuto da fare con loro aveva avuto modo di conoscerli bene quando era stato in Austria quando aveva combattuto sapeva che era una razza molto dura e lì quando siamo assesi l'unica volta che ci hanno fatto andare i servizi mio padre mi aveva scongiurato di scappare con lui anche a costo che nel momento che si andava i servizi che c'erano ancora l'LSS anche questi italiani di tentare di scappare perché forse per lui era preferibile che ci avessero sparato che non essere portato prigioniero ma io ero paralizzata dalla paura e non avrei potuto farlo non ho potuto farlo comunque ad un certo punto assistete a una scena terribile perché molti muoiono vengono buttati fuori dai vagoni terribile sì e tra loro c'è il barone Morpurgo vecchio 86 anni cieco che viene buttato nella neve è morto è morto prima nel vagone di fame di sette perché non avevamo niente noi non potevamo soccorrerlo per di più lui era cieco l'avevano prelevato da una casa di riposo ecco ma tra l'indifferenza generale nel senso che la gente che vede passare questi vagoni non fa assolutamente no e noi eravamo là dei finestrini con queste griglie sbarate con i reticolati che chiedevamo un goccio d'acqua qualcosa niente l'impassibilità assoluta sia da parte dei ferrovieri che dei diciamo passanti pochi o tanti dove ci si fermava nelle stazioni dove il treno veniva approvvigionato praticamente e qui succede quello che succedeva di solito si dividono i nuovi arrivati esatto i più forti vengono destinati alla schiavitù come scrive lei nel suo libro i più giovani i più forti e i più vecchi vengono ammazzati cioè ammazzano subito suo padre cioè mio padre viene subito mandato a sinistro a destra e noi a sinistra quelli di sinistra poi sono entrati in campo quelli di destra lei dice che forse la cosa più terribile ad Auschwitz era questo fatto che non riusciva a parlare con nessuno perché c'erano donne di tutte le nazionalità che parlavano a parte i tedeschi che davano questi ordini comprensibili ma poi queste donne di tutta la nazionalità con cui non riusciva non riusciva proprio a confidarsi con nessuno quindi erano tutte cattive feroci perché erano già da parecchio tempo avevano sofferto molto e quindi con i nuovi arrivati è anche peggio perché dicevano voi siete arrivati adesso o pensavano noi siamo già qui abbiamo già perso tutti quindi erano inasprite erano sapevano di dover morire quindi non aveva non esisteva la pietà e devo dire che l'unico periodo che ho parlato è quando siamo arrivate abbiamo fatto la quarantena in una baracca e lì sono rimasta con questi italiani che poi sono state smistate in vari posti non ho visto più nessuno perché il lager anche quello di Birkenau aveva un 30 40 baracche io non so a seconda dove uno andava a finire ma si perdeva nella massa perché gli italiani erano pochi quindi io ho parlato i primi tempi con questa Laura Austerlitz con quelle signore che avevano i bambini piccoli che poi sono stati portati via Sergio Tatiana Alessandra bambini di 6 anni una certa mila di origine dalmata che me la ricordo perché è riuscita a nascondere questa creatura che era forse ha avuto un anno e mezzo due e siccome lo teneva nascosto non aveva niente per lui neanche quel misero arance cercava di allattarla al seno che non aveva più niente era una cosa terribile lei a un certo punto scrive tutte le funzioni da compiere erano insensate ma cosa vi facevano fare in cosa consisteva questa schiavitù dunque i lavori qualcuno l'ho descritto per esempio una delle cose insensate era noi avevamo delle cucette chiamate coie in polacco con un assito di legno e sopra un po' di paglia esigevano eravamo io ho detto in 5 meglio che eravamo anche in 8 perché io sono molto parca nello scrivere scrivo piuttosto in meno che in più e dormivamo anche testa a piedi tanto eravamo strette ora lì ognuna di noi aveva una copertina questa copertina doveva essere stivata in modo ineccepibile anche se era logora corosa perché poi le cape venivano a controllare doveva essere una roba proprio perfetta e questa è una cosa assurda e sciocca in un posto del genere anche perché era difficile sistemarle in quel modo un'altra cosa era che noi vivevamo nel fango perché Auschwitz era paludosa quitrinosa non avevamo scarpe dunque o sbagliate o zoccoli quindi o consumate quindi eravamo sempre con i piedi bagnati e nel fango e praticamente quando si entrava dentro noi questo fango lo portavamo dentro l'impiantito era tutto di mattoni a turno tutto questo fango veniva poi lavato dalle stesse prigioniere che durava poco perché noi uscivamo tre volte alla mattina alla una che quando si ritornava dal lavoro e poi si riusciva e poi la terza volta ogni volta questo lavoro con secchi e pulire tutto il fango pulirsi le scarpe eccetera che era solo per debilitarci allora ridevano e rubavano poi scrive lei rubavano erano tutti pieni di tutto quello che arrivava dei trasporti loro sceglievano avevano orologi ori mandavano in Germania sì ma a parte quello che rubavano i capelli con i capelli facevano non so ben cosa eccetera ma rubavano persino sulla vostra miserissima reazione sì rubavano tutti allora rubava per prima il comandante perché nei grandi trasporti che arrivava lui prendeva le cose anche per esempio quelle che erano magari degli stessi SS lui era il primo poi rubavano quelli che approvvigionavano questa cosa poi arrivava il cibo nelle cucine nelle cucine chi cucinava è logico che sì quando mettevano nella minestra quelle rape e quelle patate se per caso mettevano anche un pezzetto di lardo quella a noi non ci arrivava mai perché i cuochi quelli pur prigionieri cucinavano lo davano magari ai loro sottoposti poi quando arrivava nella baracca nostra la capoblocco che aveva altri due sotto di lei se c'era qualcosa se lo portava via e noi avevamo niente eppure lei signora Ascoli riesce a dire addirittura che in questo posto terribile pieno di fango lei a un certo punto vede addirittura una specie di aurora boreale ma riusciva a vedere i colori del giorno in quelle condizioni cosa vede sì dunque andando al lavoro anche perché era mattina presto noi facciamo l'appello ci si alzava alle 4 e dopo due ore di appello ci si incamminava per andare al lavoro in queste strade no strade non dovrei dire perché era solo fango lì era sempre nel fango come tutti è successo una o due volte che alzando lo sguardo durante queste marce alzassi lo sguardo verso l'alto perché probabilmente sono stata tratta da questi bagliori rosa azzurri che comprendeva quasi metà volta del cielo era una cosa inusitata non avevo mai visto anche qui dove vivo a Trieste io penso che fosse una specie di aurora boreale uno o due volte mi è successo e magari camminando rimanevo estatica guardando questa cosa poi nell'abbassare gli occhi mi rendevo conto di dove ero continuava la marcia e andavo verso il lavoro signora Ascoli ma lei ha saputo subito delle camere a gas cioè della morte oddio sì sì perché io l'ho saputo subito dai stessi tedeschi che ci hanno avviato dentro hanno detto qua voi uscirete solo per il cammino siete destinate tutti a morire e quindi loro ci avevano avvisato di questo però io pensavo che non fosse possibile questa cosa se noi avessimo lavorato tutto il tempo eccetera quindi non ho non ho fatto molta attenzione anche se poi di notte si sentivano si udiva si vedevano le fiamme dei crematori che saranno state a un chilometro di distanze sentiva l'odore di carne bruciata dei capelli eccetera però io mi rifiutavo di credere comunque anche nel campo ci avevano avvisato subito le capobloche magari in tedesco qualcosa riuscivo a capire poco però e anche quelle che erano con me e che poi sono state smistate qualcuno sapeva il tedesco quindi ci avevano detto che qui si finisce tutto no? si finiva insomma ma io per due mesi non ho creduto e quando ho avuto la certezza è stato dopo che una delle solite noti che i crematori avevano funzionato tutta la notte nessuno era entrato nel campo quando noi siamo andati siamo usciti per andare al lavoro attraversando i binari ho visto lungo tutto il tracciato ho visto scarpette di bambini ho visto nastrini ho visto fotografie allora ho capito che effettivamente succedeva quello che mi avevano detto è stata una cosa atroce non potevo accettare senta ma ad un certo punto devono smantellare Auschwitz perché stanno perdendo per fortuna no? ma vi arrivavano le notizie? no io non ho mai saputo niente io aspettavo solo la morte perché io non avevo contatti con nessuno e quelle che erano russe comunque devo dire anche questo quelli che sapevano qualcosa erano i polacchi i capi polacchi che facevano gli aguzzini però erano trattati meglio perché potevano mangiare di più vestirsi meglio eccetera però anche loro erano diventati si erano abbruttiti avevano perso la famiglia sapevano che avrebbero fatto questa fine però loro trovandosi in Slesi alla loro terra diciamo come se io mi fossi trovata qua in Carso avevano sopportavano meglio il clima probabilmente avevano oltre questi i confini del Lager probabilmente avevano qualche notizia dai partigiani polacchi senza uscire fuori e loro qualcosa sapevano forse avevano anche qualche radio nascosta però non è che loro ci dicevano niente quindi io fino all'ultimo non ho saputo niente non avevo nessuna speranza sì l'ultimo periodo diciamo verso novembre forse già in ottobre novembre e si sentivano i canoni dei russi perché i russi erano a Cracovia dove si sono fermati a lungo hanno trovato una grande resistenza quindi noi speravamo anche che venissero a bombardare non ci interessava niente pur di finirla e così infatti avevano chiesto più volte di bombardare i Lager ma non l'hanno mai fatto però ad un certo punto lei quando Auschwitz viene smantellato si cerca di distruggere le prove di quello che è accaduto lì dentro vengono fatti saltare i forni eccetera eccetera viene caricata su un altro trasporto e spedita in un altro in un altro posto terribile Bergen-Belsen sì praticamente la gente viene lasciata morire di media sì esatto infatti da vari libri che io poi ho letto e credo di aver letto tutti anche per rendermi conto del perché avevano fatto questo e non ho mai trovato una risposta lì appunto quello che ci davano non ci faceva morire ma non ci faceva neanche vivere ci davano talmente poco che poi alla fine quando siamo state liberate effettivamente in quella settimana sono morti 12.000 ormai non c'era più niente per noi cioè ma lei scrive signora Ascoli che è sopravvissuta perché per un puro caso sì quando i tedeschi se ne sono andati lei ha trovato una rappa allora per tagliare questa rappa e per mandarla giù lei ci ha messo due ore per mangiarla sì ero non potevo neanche muovere le mani niente lei ci ha messo due ore è riuscita a mangiare giù questi pezzettini con questi pezzettini è riuscita a riattivare in qualche modo i succhi gastrici io penso io penso che sia stato questo che mi ha salvato perché nel blocco che poi sono ritornata perché il campo era abbandonato io in un primo tempo volevo morire in una baracca vuota perché non volevo sentire più urla malattie sulla paglia però a un certo punto poi ho preso paura e sono ritornata nella baracca dei morti e moribondi sono tornata lì e ho aspettato perché capivo che qualcosa doveva succedere che dovevano entrare gli inglesi non hanno potuto soccorrerci subito e quando ci hanno soccorso perché la guerra continuava sia da Nover che ad Hamburgo che era non so quanti chilometri distante e quando ci hanno dato qualcosa da mangiare e ci hanno dato quello che avevano vale a dire latte condensato e scatolette di maiale ora si muove come ripeto in quelle condizioni poi avevamo tutti una diarrea eravamo trasparenti io non so forse io penso forse che avendo mangiato quella rapa che abbia e non avevo neanche la masticazione più quindi gli altri che hanno ingurgitato l'unica cosa che hanno avuto la maggioranza è morta 12.000 sono morti dopo liberati questo è stato confermato e archiviato nei vari libri e difatti Londra aveva tutti gli archivi di questo campo signora Ascoli lei è una persona molto alta quanti chili aveva avrò avuto 38 chili non lo so guardi le posso dire questo che io la vita me la tenevo così con le mani con le mani e questo qua mi ricordo molto bene perché nel periodo che ci hanno portato in ospedale che ci hanno aiutato poi anche sotto gli americani e poi c'era un campo di militari che aveva molta compassione di noi ci portava da mangiare a parte il primo periodo che ho potuto mangiare poco quando ho ripreso poi a mangiare e mangiavo anche di notte avevo sempre fame io per un mese per un mese ero sempre uguale perché mi sentivo facevo così con le mani con le mani e si toccava tutta la vita più di un mese un mese e mezzo io non ho preso un decca con tutto quello che dopo nel tempo ho mangiato questo quindi non so cosa potevo avere allora qua si dice si tende a dire che ad un certo punto le cose finiscono quindi lei a un certo punto ritorna a Trieste ritrova quel che resta della sua famiglia perché suo padre è morto come abbiamo detto ma i fratelli sono sopravvissuti anche la mamma è sopravvissuta ma è davvero finita così lei dice lascia intendere che non è finita così che sua madre in realtà è morta di crepacuore insomma se così possiamo dire sì non subito perché mia madre quando sono tornata era pazza dalla felicità in seguito però mia madre è morta per una malattia che ha avuto e che i medici mi hanno detto che in certi casi subentra per i gravi patemi dell'animo ora mia madre che aveva ricevuto una mia dichiarazione di morte all'epoca e quindi non avrebbe dovuto sperare più né per me né per mio padre avevo 17 anni e non solo io poi ho saputo da persone che lei mangiava pochissimo perché diceva i primi tempi che non sapeva niente di questa lettera come posso mangiare quando mia figlia forse sta morendo di fame quindi mia madre sarà anche un po' debilitata sarà lasciata andare e non solo poi i miei fratelli uno di questi il più giovane è stato preso perché sospettato di essere partigiano è stato messo in una grande in una grande caserma in un deposito di dinamite e volevano che confessasse altrimenti lo avrebbero fatto saltare in aria lui era già scosso per la nostra partenza perché non ci aveva più visto era piccolo aveva 13 anni i suoi nervi hanno ceduto quando l'hanno rilasciato lui ha cominciato ha cominciato ad ammalarsi e questo è rimasto abbiamo fatto solo che ospedali con lui mia madre è morta anche per le sofferenze vedendo questo figlio che non si recuperava più gli ha avuto una vita di enormi sofferenze ringraziamo per la partecipazione Marta Ascoli la sua drammatica testimonianza scritta più di mezzo secolo di distanza la trovate in un libricino grigio e nero attraversato da un doppio filo spinato che si intitola Auschwitz e di tutti edito dalla Lint di Trieste da scrivere e descrivere vi saluta Lilla Cepac il tecnico del suono Corrado Spunton il nostro programma termina qui a risentirci alla prossima puntata